Taser lotta all'abusivismo e all'accattonaggio. Sono soltanto alcune delle misure che confluiranno nel nuovo regolamento della Polizia Locale. All'indomani dell'approvazione definitiva alla Camera del Decreto Sicurezza e a circa un anno di distanza dall'ordinanza anti-accattonaggio firmata dal Sindaco di Como, che tanto aveva fatto discutere anche a livello nazionale, Palazzo Cernezzi si muove per recepire alcune disposizioni contenute nella nuova legge, nel testo che regolerà la Polizia di Como. Dal Taser al Daspo fino a misure più stringenti per combattere la lotta all'abusivismo. Nei prossimi giorni ci confronteremo sul tema, spiega il Vice Sindaco di Como, Alessandra Locatelli. Di certo alcune misure del Decreto Sicurezza saranno inserite nel nuovo regolamento. Tra queste gli strumenti contro i venditori, parcheggiatori abusivi e all'accattonaggio molesto, continua il Vice Sindaco, estendere il Daspo anche a fiere e mercati, oltre che negli ospedali e nei presidi sanitari, e concedere l'accesso alle banche dati interforze sono altri aspetti rilevanti per raggiungere maggior sicurezza e controllo sul territorio. Infine il capitolo immigrazione. Sicuramente saranno inseriti tutti quei passaggi per il contrasto all'immigrazione clandestina, spiega ancora Locatelli. Come Comune non siamo più obbligati, come prima, di scrivere all'anagrafe richiedenti asilo, il Decreto salvaguarda quelli che sono i diritti fondamentali, ma alcuni diritti civili che vanno di pari passo con la cittadinanza e la residenza dovranno essere garantiti solo a chi ha lo status di rifugiato, ma non in tutti gli altri casi.